Cenando Cenando è la storia di tre amici che a vent'anni assistono al crollo del muro di Berlino, 9 novembre del 1989. Da lì decidono di tenere un diario collettivo radunandosi a cena ogni dieci anni circa. Tre vite, la storia di tre vite singole e che si intrecciano e che parla di gioia, di amore, di tradimenti, di dolori, di realizzazioni e di insuccessi. La storia minuscola che si specchia con la storia moiuscola. Grazie a tutti.